Eccoci qua, ci divertiamo un pochino, argomenti segnati se no me li scordo, me li scordo, un po' di hashtag, vediamo un po', ci divertiamo, intanto grazie che mi state seguendo, io mi sto divertendo molto, pensavo di ricevere più insulti, più haters, invece vedo anche tanti complimenti, ma dai ogni tanto proverò a rispondervi piano piano, mi raccomando perché tanto è gratuito, partiamo dalle notizie e poi arrivo con quello che vi volevo dire, Fredkinhaut 20 luglio, ricordate questa data, Fredkinhaut 20 luglio, poi vi documento tutto quanto, gli incedibili, quindi vi farò il nome dei due incedibili, Bovehaut con il punto interrogativo esclamativo, hashtag bellanova, calma, adesso ci arriviamo, il calciatore può essere decisivo, intanto mi anticipo questa cosa qua, ci guardiamo le fe, me lo sono segnato perché ho qualche dubbio, oggi poi dopo tre match do la sentenza e due parole su De Rossi e Ghisolfi, ecco qua, tutto segnato, voi intanto è gratis, iscrivetevi e campanellina, ragazzi è gratis, non vi devo vendere il ciclo per io, non vi devo vendere nulla, ma ragazzi adesso dopo vi metterò anche la foto, il 20 luglio, fino al 21-22 luglio c'era l'hashtag Fredkinhaut, secondo me questa cosa è pazzesca, è assurda, intanto mi sento molto Tony Manero con questa camicia un po' aperta, con questo occhialetto, ma parlo dei comunicatori, da cospia, non è proprio l'ultimo, uno che fa tanto gossip, i Fredkinhaut sul loro profilo, cliccate, non si possono mettere su Instagram, non si possono mettere i commenti per gli insulti che tanti di voi avete fatto, o è che voi siete scordati, peggio di pallotta, peggio di sensi bla 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 finale, peggio di cerramico e qui sia ad oggi, sta proprio scritto sul Corriere dello Sport, stranamente sono molto vicini alla proprietà, ma non mi fate entrare in queste battaglie, quindi improvvisamente complimenti, la prima squadra in Italia con soldi spesi di gran lunga, entrate poche, è uscito Belotti, è uscito Guare, insomma neanche a 20 milioni, potrà uscire Zalewski, potrà uscire Kasdrop, comunque riguardano il cartellino, vediamo cosa succederà con Ebra, poi su Bove apriamo un capitolo a parte, gli unici, due, incedibili, ok, ecco qui, siamo a tre minuti, adesso ve lo posso dire della Roma, anzi, ve lo dico con l'argomento dopo, andiamo un attimo su Bove Out, che come l'ha definito il mio direttore di Giovan Battista, il simpatico Tavano, ha detto che Bove non ha chiesto la cessione, vuole rimanere a Roma, così ha messo la storia Instagram e poi magari così comunica lui ufficiosamente, però il calciatore Edoardo, ed è un suo diritto di farci i complimenti a questo ragazzo, vuole giocare, non è felice di stare in panchina ed è anche corretto perché se continua a stare in panchina, se adesso vale circa 15 milioni, magari con qualche bonus, poi si svaluta perché la Roma comunque ha preso un altro centrocampista con un po' di gamba, in effetti ci arriviamo, quindi caro Tavano, poi vediamo come va a finire questa situazione qua, anche oggi intanto un'ora prima della partita abbiamo dato la formazione in anticipo, scherzo, però vuol dire che arriveremo anche quest'anno a darvi la formazione in anticipo, vi ricordate la finale di Europa League col Sevilla, 5 ore prima, formazione ufficiale, ok, giusto così per infrescarvi l'idea, per non parlarvi delle magliette, però un giorno io vi racconterò tutte le rotoscene, quale era l'albergo dove stavano per Dobvik, cosa è successo, cosa si sono mangiati, perché qualcuno fa lo spiritoso, adesso sapete anche cosa si sono mangiati, beh, ragazzi vi abbiamo detto che c'era la maglietta di Dobvik con il numero 9 in camera, ok, andate a vedere il tweet, è tutto segnato lì, stagliati, non può sfuggire. E Bellanova, allora intanto Bellanova non è la mia notizia in primis, anche nel passato, era vero che era nella lista, no, questo l'abbiamo detto, era il primo nome nella lista di De Rossi, Ghisolfi sarebbe andato su Tiago Santos, però, insomma, Cairo ha venduto già buongiorno, ha fatto tanti soldi, quindi adesso se la sente calla, tra virgolette, quindi vediamo quello che succede, ma il calciatore vuole venire alla Roma, qualcuno mi ha detto che è già l'accordo con la Roma, non lo so, a me non risulta, quindi però non voglio sparare le sentenze, magari al Torino tu gli dai Zelitsky, è vero che è un attaccante, è vero che ha fatto un buon europeo, poi è stato uno dei migliori della Polonia, però il ragazzo ha il contratto in scadenza, quindi diventa un problema piazzarlo, o gli fai firmare il contratto e quindi ha la Roma un po' più di potenza e dentro ci metti Bove, a quel punto Bove circa 15 milioni, Zaletsky una quindicina, scusate 10, siamo a 25, è la cifra che chiede il Torino e secondo me ci può stare, e vi dico che Bove è proprio un giocatore da Torino, molto grintoso, attaccato da Maglia, rispettoso, un grandissimo lavoratore, si impegna tanto, questo lo possiamo dire, quindi questo è un plauso al ragazzo. quando ci siamo usciti e lui vuole andare via non era fare una cosa contro la Roma o contro il ragazzo, so che queste cose diventano scomode perché per Roma se tu dici che vuoi andare via, poi la situazione la vivi un po' diciamo scomoda e non voglio entrare in oltre i dettagli, ma se dico questo è perché qualcuno si è mosso in modo e maniera di gettare acqua sul fuoco. Quindi attenzioniamo alla situazione Belanova, l'unico giocatore che so che la Roma ha fatto due belle chiacchiere sull'esterno è proprio Assignone, Tiago Santos chiedono tantissimi soldi, però cari Fredkini questo è un consiglio, se mi posso permettere di darvi, Tiago Santos è un valore assoluto, cioè lui è sicuramente ripendibile, è giovane, è il più forte di tutti, è un asset per la società sicuro, male che vale te lo rivendi anche fra due anni, faccio un esempio, a 20, quindi non avessi perso nulla e il giocatore verrebbe alla Roma perché la Roma ha parlato proprio Lina, vi posso dire una cosa, proprio Lina ha parlato con il calciatore, quindi non lo so, vediamo, calma, calma e sangue freddo. Lefe, ve lo ripeto, oggi terza partita, anzi quarta amiche ore, lo voglio vedere e poi Lefe in e Lefe out, Lefe in e Lefe out, dobbiamo stare attenti. L'ultima cosa, due parole su De Rossi e Ghisolfi, ho sentito dire anche che De Rossi non stimava Ghisolfi, che avevano il bisticciato, è meglio Sartori, è meglio quello dell'Atalanta, sicuramente Sartori avrà più esperienza di lui, è una persona splendida, ve lo posso garantire, ogni tanto ci scambio qualche chiacchiera, quindi Ghisolfi sta lavorando, si diceva che conosceva solo il calcio francese, una delle cazzate più assurde che si possono ascoltare, ma voi pensate, un uomo di calcio che conosce solo i calciatori francesi, che fa lo scouting tra virgolette di lavoro, ma lui ha una squadra, un'equipe interna e un'equipe esterna, ok? Ogni giocatore è condiviso con Daniele De Rossi. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale se no mi arrabbio, vi metto una foto di tutti gli argomenti che abbiamo sviluppato e mi raccomando, Freddy King out! Continuate così, 90 fischi a botti sono già usciti e non è finita, ok? Tanto è finita la live!